Buongiorno, sono Maurizio Poli. Nel mese dell'educazione finanziaria ho il piacere di comunicare che ripartiamo con gli eventi in presente. Abbiamo organizzato di padre in figlio, vero Giussi? Sì, finalmente. Dopo tre anni ci rivedremo nella nostra sede di Cremona e sarà l'opportunità e l'occasione di approfondire una tematica che parla di futuro. Futuro, quindi il 7 ottobre, ora 17.30, via Antiche Fornaci 31 Cremona, i nostri uffici, vi accoglieranno dalle 17.30 per accogliere i figli e i genitori, vero Giussi, degli imprenditori. Sì, e avremo tanti amici, tra cui il dottor Angelo Quaglia, la dottoressa Silvia Frola e la dottoressa Agnese Cascapini per valutare e approfondire insieme questa tematica così importante per il futuro delle nostre famiglie e delle nostre aziende. Sarà una cavalcata veloce e poi seguirà un piccolo aperitivo finanziario per parlare con voi, vero Giussi? Certamente sarà l'occasione per salutarci dopo tanto tempo. Vi aspettiamo il 7 ottobre, ora 17.30, di padre in figlio.